Allora, siamo con Francesco Zoppi del West Ham, a cui chiediamo, allora il parziale del secondo tempo è di 2 a 1 per voi, quindi al primo tempo dici un po' che è successo per finire così. Abbiamo avuto un po' di defezioni che rientravano oggi e stavano un po' fuori forma, diciamo, poi anche dopo le feste non è stato semplice, diciamo che dobbiamo trovare un po' l'equilibrio e i meccanismi giusti e abbiamo ancora qualcuno fuori, non è una scusa però purtroppo è così. Allora, in difesa avevate dei belli elementi, in attacco avete proprio a volte anche sbagliato qualche gol facile, nel secondo tempo potete fare qualcosa di più? Sì, sicuramente nel secondo tempo, ma soprattutto nel primo che abbiamo buttato all'Urtiche tre occasioni clamorose all'inizio partita e quelle hanno indirizzato purtroppo il match, diciamo che c'è da lavorare. Va bene, comunque vi auguro una più fortuna e anche un augurio per le prossime partite. Grazie mille e forza quest'anno. Grazie.